Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video E continuo con lo seguente Sto registrando di fila, quindi faccio Sto facendo tre video Dopo la perdita La perdentita E adesso vedremo Questo gioco che forse è uscito bene Il salto dei vampiro Fatto su Tess Si, Tess, che sarebbe Super Nintendo In realtà Spoiler, oddio Hanno modificato leggermente i nomi Per fare in modo che Non avessero i diritti d'autore a pagare Oddio, non avrei mai detto Con le combinazioni di intelligenza artificiale Buona, ok Ok, ah, si qua c'è di nuovo la faccia del pubblico riferimento Quindi cerchiamo subito Il pubblico di riferimento e sono un romolo Come si mette si, si vede più tranquillo Ovunque, noto Cioè se sono, si fanno più vendite Eh Un pochettino di più, noto Forse, non so sicuro Però, comunque stiamo facendo Abbastanza pubblico Adesso Ricerchiamo anche il solo romolo E un nuovo tema Non so sinceramente cosa fare Però, va bene Vediamo subito Dobbiamo cogliere Vedete, dicono che c'è C'ha il Vena Cioè vogliamo C'è sta per uscire il Vena Che non so come si chiamava Oddio, non mi ricordo più Come si chiamava Che console era Scrivetevelo Per caso voi ve lo ricordate Comunque adesso Per tutti Scegliamo il tema Non caccia Hacking No Cioè però io non c'ho roba Si Musica Action Proviamoci Suoniamo No Sing Song Quanti bei nomi Cioè veramente Faccio Bellissimi nomi Più belli di questo pianeta Forse devo mettere solo uno mono Per un gioco di musica Ma solo forse Ma siamo pochettino Il missione Dai Non ti grattare Lavora Comunque Come va ragazzi Quei va Ditemi un pochettino Tutto bene? Spero per voi tutto bene Vi ricordo Se per caso Non l'avete fatto Di partecipare al giveaway dei 15 iscritti Ora praticamente stiamo salendo a 20 Perché nel frattempo che ho fatto quello ero già Cioè nel tempo che lo stavo caricando ero già 16 Nel tempo in cui l'ho mandato sono salito a 19 Vabbè Chiunque vi sta Cioè se tipo Qualchiunque vi sta guardando Dice ma quanti pochi iscritti c'ha questo Per migliorare la situazione Se il gameplay vi sta piacendo Gente strana che vi sta guardando Iscrivetevi Fate un piacere Ditemi oppure ditemi Per caso Datevi consigli per migliorare Sul canale Nel frattempo finisco SigSong Avete visto più o meno Soggiati i dettagli C'è dettagli Ha dato il nome da console Adesso lo ricordo Già di voi o più Vabbè io lo faccio Perché se no mi trovo altri bug No Non sto dico giochi Vai Finisci Oh Pronto Nuovo record in design Nuovo tema Nuova combinazione Rilasciamo il gioco Oh Redigi rapporto Vai Oh Oh 10 Vedo il 10 No vedo 8 Vedo 7 Vedo 8 Dai dammi il 9 Dammi il 9 8 Vai bene Leggermente peggiore Di quello che abbiamo fatto prima Quindi adesso vediamo quanto vende Uh Vende abbastanza però Vende abbastanza Una grande illuminazione Gameplay Abbastanza importante Piatraforma pubblico Tutti Test buono Adesso Divulppiamo un nuovo gioco Io dico maturo Secondo me maturo ci va bene Maturo Un altro aeroplano No 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 Ricerchiamo qualcosa di nuovo Dai su ricerchiamo Dai ricerca fa bene Alieni Oddio La Master V Non lo conosco Perché non la conosco Non appartiene alla mia mente Cioè proprio non mi ricordo il nome Di questa console Ditemelo Però non mi ricordo Che si chiama console fatta da Sega Cioè così Sega Ah si si Sega Io dico perché non me la ricordo Sinceramente non me la ricordo Comunque sviluppiamo un nuovo gioco Maturi Alieni Strategico E PC Ok quindi UFO Se non erro Era questo il nome Di uno storico gioco Sa di strategia Di cui è stato fatto Il remake Di cui io sto dando Una chiave Del remake XCOM 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 Perdoate il mio pessimo Crazy In inglese Parlato Ehm Spettico Ma che spopera In altre parti del globo Vabbè ok Comunque rimane il fatto Che Io sto dando il remake Ora come una chiave Una key Di steam Del remake Ehm Ed era Alieni strategia Credo si possa definire La di strategia Vabbè Poi si potrebbe definire Anche in un altro modo Cioè nel senso Era uno strategico Era uno strategico Atturri In cui Ne ricontro gli alieni Era Fatto proprio bene Ah No Ho fatto una cazzata Ho saltato l'intervista Sono un pirla Oddio No no L'ho fatto per una ragione Molto semplice Noi ce la dobbiamo fare Da soli No non è vero Sono stato un binchione Perché ho fatto un altro modo L'intervista Ah dio mio Sono un pirla Questo poteva avere una Ehm Le quali Sul gioco Per un pulito Molte spette Dico Per poi Giochi vatturi Diveranno Se le più popolari Oh Sei tu un hype da solo Senso che io Dessi l'intervista Dassi Dessi Oddio Il congiuntivo Scusate Sono una persona Sono 16 anni Se non si fosse notato la voce Ehm ho sbagliato il tempo verbale Chiedo scusa Ah è una nuova combinazione Speriamo che vada bene Dovrei vedere un po' di meno degli altri Perché è sviluppato su una Non so Cioè su Ma perché tutta la roba che Torchetti servirebbe più a alti Perché avviso Non Non giravo questi Non avrei mangiato su questi generi Io Uh die Oddio Sette Ok Con l'hype che abbiamo Cioè con il 5 dihype Forse vende anche abbastanza 9 Sincere da questa è la parte dei fonti Proprio Ci piace Questo gioco La parte migliore Abbiamo avviso Ah giochi casual Giochi casual Ecciti studi Stia cedendo E talete quota Sarà normale Vigo Gomodor Ha ormai fatto Il suo tempo Crea motore Perso in tempo No Potrei aggiungere Tutti solo un romolo E non è vale Sinceramente La pena Ciò vi dice Che fare Un altro gioco Questa volta Su Su Oddio Non saprei Su che console Prima di tutto Il test Ness Si da Il Ness Azione Quindi Perché l'azione Va tanto Sembra alieni Alien Jump Scritto così Uno uno No no Scherzando Così va bene Motore di gioco Da speranza La speranza È il nostro motore di gioco E iniziamo lo sviluppo Questo ci serve Perché Andiamo per salire Anche di livello Quanto riguarda La grafica Ok andiamo via Così Andiamo ad andare Come lo scorso video Lo adoro Vabbè Come lo scorso video Anche qui Farò Completere il gioco E poi farò vedere Le vendite Però nel prossimo video Come ho fatto all'inizio Di questo Io ho fatto vedere Le vendite Del gioco Che ho fatto Lo scorso Quindi Spero che Vada bene Da questo Dovrei avere Il feedback Sul video Che In cui ho perso E quindi Dovrei sapere Che decisione Prendere Verosimilmente Se non mi direte Nulla Io Sceglierò io E probabilmente Continueremo Per come stiamo andando Adesso Il mese prossimo Arrivare il gamelink Svilupperemo Giochi sul gamelink Comunque Verosimilmente Il prossimo video Potremo essere Sia Continuando questo Di far vedere Come è andato Oppure Semplicemente Dopo aver prodotto Questo Finito Voi non sapete Come è andato Questo Ma ci ritroveremo Avanti del gioco Quindi In qualsiasi caso Ciao a tutti Qua da Leone Al prossimo video Ciao ragazzi